Siamo a Deidone, provincia di Enna, oggi 5 e 6 agosto ci saranno manifestazioni dedicate alla zona archeologica, dove si fa rivivere la città antica di Morgantina di 2400 anni fa. Siamo qua con Totolo Castro che viene per la prima volta a partecipare a questa manifestazione e gli chiediamo cosa ne pensa. Sì, questa è la prima volta che vengo qui a Morgantina, sono molto commosso perché qua c'è tutta la storia della Sicilia, una storia ultramillenaria che ha visto il popolo siciliano al centro del Mediterraneo, al centro degli scambi commerciali del Mediterraneo. E qui possiamo vedere Morgantina che è una città storica, che è la prima città del periodo ellenico siciliano, dove si batteva moneta, la prima zecca dell'isola era qua a Morgantina. Questa è la prima città con circa 3000 abitanti dell'epoca ellenica, 2400 anni fa, si dice che risale questa città di Morgantina, ma è tutta la Sicilia che offre siti archeologici di grosso spessore come Entella, Maghella, Solunto. No, venire qui a Morgantina è un qualcosa di particolare, un qualcosa che ti riempie il cuore, perché siamo al centro della Sicilia e il centro della Sicilia è veramente il cuore del Mediterraneo. Grazie a tutti, venite a Morgantina e sostenete tutto quello che offre la nostra terra, la nostra storia, che ce la possono soltanto invidiare. Solo per questo dai Borboni ai Savoia e agli altri conquistatori volevano venire qui in questa terra, perché questa è l'isola del grano, è l'isola del sole. Grazie. Grazie.